un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini iniziamo dalla 1 dove ci sono 6 km di coda per un incidente tra Firenze in Pruneta e il Bivio con la 11 in direzione Bologna sempre verso Bologna code a tratti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico in A11 code a tratti per traffico intenso tra Alto Pascio e il Bivio con la 1 in direzione Firenze in FIPILI rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici in direzione Firenze sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra l'incrocio con la 12 e Rosignano Solvè in direzione Nord svincolo chiuso all'incrocio con la 12 sempre in direzione Nord Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze e buon viaggio! Grazie a tutti!